Buongiorno Abbiamo fatto un piccolo itinerario Anche se staremo solamente due giorni Partiamo oggi e torniamo domani Siamo imbarcati e stiamo aspettando di partire La partenza è questa per le 7 E l'arrivo alle 7.50 Purtroppo sta piovendo Cercherò di fare delle riprese Per far vedere un po' il passaggio Presa Purtroppo 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 L'ammonia Gesù Salve a tutti Ci spavent smo all'Impiegato del Museo Te Papa Il grande planeta di sei di anni Ed è l'interdito di sei di anni letteralmente il nome di Papa ha significato dei turisticatori Ciao a tutti, oggi ci troviamo alla Beta Digital, che è una compagnia di F&E speciali digitali, con seda Wellington naturalmente. Grazie ai fondatori c'è Peter Jackson, è stata fondata il 1993 in occasione del film per creare dal cielo. Abbiamo appena fatto un tour all'interno, purtroppo non si possono né scattare foto, né fare delle riprese ci hanno fatto vedere alcuni modellini, alcuni patti originali della nuova forma Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!